E' ancora ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di chirurgia toracica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, l'operaio 42enne mesagnese Giuseppe Bianco che nella mattinata del 25 aprile è stato travolto dal rimorchio del trattore sul quale stava lavorando. L'uomo dipendente della cooperativa Sansone per cause ancora in corso di accertamento, mentre era lavoro in contrada vergine a Mesagne, è stato schiacciato dal rimorchio del trattore. Subito soccorso dai colleghi è stato dapprima trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi dove i sanitari gli hanno accertato gravissimi traumi al cranio, al viso e al torace, nonché lesioni polmonari che ne hanno reso necessario l'immediato trasferimento al nosocomio Leccese dove è attualmente ricoverato. Sarà adesso compito degli ispettori dello Spesal di Brindisi ricostruire le fasi dell'incidente. Già nei giorni scorsi gli stessi si sono recati sul luogo in questione per ascoltare il titolare della ditta e i colleghi di lavoro di Bianco, contro i quali al momento non sembrano essere state adottate misure giudiziarie. Intanto la Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose.